...della crisi energetica ed economica che stiamo attraversando. E' il compito primario anche di questa istituzione. Il vicepresidente Fabio Lampeglie e Mara Carfaglia, che riprovi in quest'aula, è il vicepresidente che sta guidando e ha rialinato con competenza del cittadino il nostro paese in cui sta portando in questi anni faremo chiamare una collaborazione che sta lavorando. Per effetto del taglio del numero dei parlamentari, che oggi diventa operativo. ...disposte efficaci, solidarietà e spirito di coesione per affrontare le cause profonde della disaffezione della politica. ...i colleghi che per la prima volta entrano alla camera di puntata. L'augurio che rivolgiamo al prossimo governo, chi verrà, da parte sia di chi lo sosterrà che da parte di chi ne farà, ne starà la cosa. Antonio Orte. Alviti. Parrote. grazie